Momenti di tensione questa mattina lungo la statale Appia, le porte di Benevento, dove i lavoratori degli ex consorsi dei rifiuti hanno messo in atto l'ennesima protesta contro la loro situazione che ormai va avanti da anni. Le maestranze degli ex consorsi hanno infatti improvvisamente bloccato l'arteria all'altezza della rotonda nei pressi del centro commerciale Bonvento. Circa 20 gli ex dipendenti dei consorsi che hanno bloccato le auto e i camion lungo la trafficatissima statale 7. In pratica i manifestanti attraversavano la carreggiata e per alcuni minuti sostavano al centro delle corsie, bloccando gli automobilisti che viaggiavano sia in direzione di Montesarchio che di Benevento. Nuovo atto dunque dell'infinita vertenza degli ex consorsi rifiuti della provincia di Benevento e Napoli. Decine di occupazioni, minacce di lanciarsi nel vuoto dai tetti di comune, province ed altri edifici per richiamare l'ormai storica problematica del mancato pagamento degli stipendi. Arretrati è la ricollocazione più volte promessa o ottenuta in maniera parziale e per tempi decisamente troppo brevi. Un mero calvario che interessa 121 dipendenti, che sembra senza via d'uscita, nonostante i rimpalli e le promesse più o meno mantenute dagli amministratori sanniti e dalla regione Campania. La protesta si è conclusa intorno alle 13, quando le forze dell'ordine hanno convinto i manifestanti a liberare l'arteria. Grazie a tutti. 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 Grazie.